Dove vai? Uè! Chi è? Chi ha suonato? Chi è? Andiamo a vedere chi è? Andiamo a vedere chi è? Andiamo, sì! Cia cia! Vedi un patto in possibilità! Vai! U! È la prima prova, è la prima prova! Scusa Giva saluta il mio pubblico Facciamo di sentire il nostro affetto Scusa Giva saluta Grazie